VIO! Oh mamma mia! Che c***o ha scorreggiato! Scimente è la giusta dose tra delirio e bestimie Oh! 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 Voglio vivere! Un livello 31, esiste un ancora? Oh! 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 Che c***o! Oh! 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 Ancora! Signore e signori, uno scroto! C'è shipment 24-7 e che faccio? Non ci gioco? Certo ci devi giocare Alexis, intanto sto inciampando i 20 cavi diversi. Oh cosa diavolo? Ma perché? Ho guardato il mio cine. Oh mamma mia, oh mamma mia, che cosa diavolo è successo? Aggressive, aggressi ma c***o, via, oh mamma mia, chi c***o ha scorreggiato? C***o! 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 Ci siamo uccisi a vicenda! C***o! 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 Oh mamma mia! Kobe? Ho trovato lì e io vomitando. Sì, la giusta dose tra delirio e pestigne. Zipavo chorderscono appigliarci sotto tutti quanti negli su baril ok dai che ero in modalità inserviente messicano anche se dalle mie parti sono i filippini che puliscono questa era fortemente razzista sto sudando fa troppo caldo qua dentro ops scusa fatti un giro no ma ehi 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 oh come minimo adesso qualcuno mi chiamerà al telefono so già che il telefono suonerà da un momento all'altro let's go lancio lungo termite a caso termite lì oh 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 no aiutatemi decidiamoci chi chi la cosa dammi un secondo che ricarico devo un attimo prendere un po' di kobe wow che lancio muori 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 ma che cavoli faccia kobe lancio lungo lancio lungo mi ha preso uno mi ha preso uno scusa scusa oh drop shot scusi giovine kobe kobe headshot oh oh tirano tirano voglio vivere esci esci oh un attimo faccio lungo non va grazie non posso più uscire adesso che mirra non è il titolo key weight non avrà in caldo il risultato arriva la chiamata del signore e io come minimo non sarò pronto ma il cappello è storto che è stato ma ce la faccio a mettergli un cappello in testa la risposta è no e sci sempre a me con le granate per terra aspetta che ricarico un livello 31 esiste uno ancora e sei pure italiano lancio uno lancio due a a o a a a a Godfitto! Dropshot! Scappa! Scusi, buon uomo, ma perché mi fa una dieta? Ok. Io mi emoziono e poi alla fine cicco sempre. Ehi! Alla cicca! Oh! 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 Che c***o! Oh! Oh! Ancora! Ho percepito! A caso! Mi sono spaventato! Mi sono spaventato! Ehi! Oh! 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 Headshot! Oh! 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 Oh cosa volevo prendere mi spari addio